Sì, sono andati nel punto più merdoso di tutti Sala sotto Moreno L'ultimo è Castle Sopra lo fanno sempre Termite devi andare a fare le porte principali sotto Invece i ban andiamo a far sopra Io vado a far sopra E c'è la recluta sopra, quindi ho c'ho Qua ci vorremmo un bel fiuz C'è cazzo bravo Lancio una granata EMP Nuovo caricatore L'ultimo nemico rimasto Vediamo dall'altra parte Attività nemica Tornate a occuparvi del contenitore Dopo che mette la stanza e proteggete il contenitore I sensori neutralizzati L'ultimo è attaccato Il muro è ridotto Il jammer va benissimo di così per dirti Il nemico non ha trovato il contenitore di biorischio Dispositivo innescato Porta barricata Allora Assecco! G4 piastato Nuovo caricatore! Uh 10-0-0 Che partitore Non lo so, 5 minuti 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 No lo so, 5 minuti Non lo so, 6 minuti